Vediamo Phenom che porta Bison, non ne calli, e invece Conkstar che insiste con la sua chemiche in questo torneo si è dimostrata versatile, credo di gestire ogni match-up senza bisogno di cambiare PG, piuttosto cambia semplicemente stile di gioco. Abbiamo visto che ha già sconfitto un Bison, vediamo se riesce a fare... Ma Bison l'abbiamo visto giocato in modo diametralmente opposto in questo torneo, infatti vediamo subito questo Bison molto molto più offensivo. Phenom infatti subito sorprende Conkstar, cerca di spingere verso l'angolo ma Cammy non ci sta e ristabilisce la giusta distanza. Una forte lead di vita per Bison, che però non significa assolutamente la fine del match. C'è ancora un sacco di tempo per recuperare, basta non fare entrare nuovamente Bison che può punire un singolo errore, sicuramente con abbastanza danni per chiudere il round. Cammy infatti spinge Bison verso l'angolo che risponde però senza capitalizzare il danno. Niente, danno ancora in posizioni neutrali ma con un discreto vantaggio da parte di Bison, del Bison di Phenom. Infatti Bison non rischia nulla, Phenom cerca di guadagnare tempo, aspetta che sia Cammy a fare un errore. Ma Cammy anche è molto molto tranquilla e la lead di vita piano piano scompare, mentre insiste la pressione in questo angolo che sembra... Uh, bellissima risposta da Bison che porta a casa il round. È il primo round per Phenom. Non ha perso la calma, non ha perso il controllo. Abbiamo visto comunque che Coomster è riuscito a mantenere saldi i nervi. Calma e sangue freddo fino all'ultimo pixel di vita. Si gioca al massimo delle capacità fin dall'inizio fino alla fine. Se riesce a non dare troppo vantaggio... Uh, bellissimo mix-up. Su una lunga distanza è decisamente lui a vincere, di solito. Ah, ci vedi questo... Uh, tenta una serie di setup che poi vengono bloccati da Bison, nonostante Cammy insista con un'altra punizione. Una semplice presa che lo butta all'angolo. Inizia l'offensiva di Bison. Uh, counter. Notevole il vantaggio da parte di Hoomster, che però viene subito recuperato. Siamo più o meno lì con la vita, anzi, alla combo! Oh, Phenom! Bellissimo round! 1-0 per Phenom. Cammy sembrava controllare tutti i due round, però poi Bison ha preso in mano la situazione e si è portato a casa il match. Si ricomincia subito, neanche un secondo per riflettere. Non si vuole perdere il flow. Cammy sembra essere leggermente più prudente ora. Comster abbiamo visto che si adatta da un match all'altro come niente fosse in base all'avversario. E non è la prima volta che perde per poi recuperare. Questa pressione davvero devastante di Cammy, che però Bison riesce a contrastare, anche se in questo momento il vantaggio è decisamente da parte di Hoomster. Non perdono la calma, restano mid-screen. Ecco un bel po' di danno che potrebbe portare Bison verso la sconfitta in questo round. Passa, con un dash sotto e punisce, portandosi a casa il primo round di questo match. Il livello è veramente alto. Un po' di fuzzi, si studiano. Un paio di normal. Nessuno dei due sembra voler fare la prima mossa affinché Comster insiste e inizia. Ma Bison risponde subito bloccando i suoi attacchi. Di nuovo in una situazione neutrale. Nessun danno è entrato per ora in nessuno dei due giocatori. Ho parlato troppo presto perché Cammy subito fa un'altra combo. E siamo a due combo seguiti da una presa. Mantiene l'avversario all'angolo. Smezzando anche la vita. Un risponde subito. Mix up. Pochissima vita per Bison che però risponde con il suo beat wicker. Vediamo se sarà sufficiente per fuggire da questa pressione di Cammy. non ci casca però il jab. Questo cross up si è adattato si è adattato e si è portato a casa un altro round. Uno a uno. Uno a uno. Incredibile questa winner's final ricordiamo da una parte alla sinistra abbiamo Kungster la sinistra dello schermo Kungster con la sua Cammy dalla Francia e a destra Fennov con il suo Bison dalla Norvegia. Due giocatori che hanno viaggiato molto per essere qui quindi nessuno dei due vuole tornare a casa a mani vuote entrambi mirano la vittoria e non si arrenderanno finché c'è almeno un pixel nella loro barra della vita. Sono uno pari Bison con una presa spinge Cammy verso l'angolo infatti si ritrova subito in un leggero vantaggio anche se Cammy non perde la calma ma anche Bison non azzarda nulla di troppo rischioso Kungster prova a uscire e ci riesce una stringa per uscire dall'angolo non fa molti danni ma mi prende una posizione sicuramente più favorevole. Controlla le distanze con queste fuzzi dal range incredibile bella combo per molto danno arriva Bison attivando il suo V-Trigger che gli consente di teletrasportarsi avendo tutte le sue mosse molto più pericolose infatti vediamo questi mix up altrimenti impossibili ma Cammy risponde anche lei oh giù e giù di nuovo una doppia pestata che consente a Bison di portarsi a casa il round Phenom cattivissimo Bison è un personaggio molto molto aggressivo spaventa con queste sue mosse ricomincia a studiarsi impedisce a Cammy di saltare dall'altro lato intercettandola con un jab debole e la combo per Bison incredibile il danno il pestone e subito il ritorno alla posizione neutrale deciso il vantaggio di Bison questo Phenom così aggressivo veramente un avversario questo salto che viene punito da questa v-skill di Bison che è molto molto fastidiosa e permette al personaggio di avanzare senza più problemi e infatti ecco Cammy con pochissima vita vediamo se fa un comeback ma la situazione è assolutamente difficile infatti viene subito punito l'errore i recovery del salto vediamo noi vediamo i teammates di di Phenom che sono molto supporti del del loro compagno di squadra è anche questo un po' il bello di questo si gioca uno contro uno ma si riviene sempre al torneo in team quindi anche se sei fuori dal torneo si fa sempre il tifo per il proprio compagno un attimo per riflettere non c'è nessun counter pick si insiste così ora siamo 2 a 1 per Phenom veramente questo è il match che può portarlo alla gran finale Conster però abbiamo visto che non si fa assolutamente abbattere e solitamente riesce a fare dei recuperi incredibili da parte sua nonostante adesso sia in una situazione incredibilmente svantaggiosa ma come vedete riprende subito il controllo del match ma Bison non ci sta e lo butta all'angolo con una presa e insiste con la sua pressione questa volta non ci casca che mi intercetta Bison durante il salto l'esca non è servita pochissima vita perché Emiche deve misurare ogni singolo tasto non si aspettava la presa non deve assolutamente strafare risposta fantastica vediamo se il mix up funziona ma Bison non perde la calma siamo di nuovo a metà schermo no non entra niente bloccano tutti entrambi Lai per le stelle un altro colpo di Bison e si porta a casa il round bellissimo match forse siamo al match point per Phenom anche se questo round secondo me era il più bello di questo set è stato veramente emozionante questo round è importantissimo per entrambi i giocatori nonostante abbiamo una seconda possibilità andandola a Loser Kungster non sembra volerci andare vive Versal vediamo un po' non può oppressare Bison ma Bison è impenetrabile Phenom molto molto paziente anche se non ha la lead di vita sa che se prende il controllo del match non è facile uscire dai suoi mix up infatti accorcia subito le distanze e spinge Kemi verso l'angolo e Bonser deve rispondere deve assolutamente rispondere deve uscire deve ristabilire scusate l'emozione ristabilire il match infatti con la critical art critical art non è assolutamente sufficiente ma c'è la lead di vita è un paio di pugni servono a chiudere anche questo round uno pari uno pari match point per Bison Kungster può ancora proseguire deve però portarsi a casa questo match assolutamente e andare così al successivo a meno che ovviamente Phenom non sia d'accordo e decida di chiudere qui questo incontro entrambi i giocatori non rischiano entrambi sempre misurati a punire ogni singolo minimo errore dell'avversario più si va avanti al torneo più le combo diventano lo stun lo stun e arriva il danno e arriva il 2 a 2 ogni match di questa top 8 va fino all'ultimo incontro 2 a 2 l'equilibrio è incredibile incredibile la lettura di Kungster lo studio dell'avversario da parte sua chiudete la porta per favore urlano pessimo esempio da parte degli italiani come sempre forse abbiamo un counter pick da parte di Phenom vediamo che ci sta pensando nella sua testa sta rimuginando cosa possa essere meglio per sconfiggere Cammy ne Calli o Bison entrambi entrambi sono concentrati un secondo per riflettere fondamentale adesso perché counter pick me lo sono perso distratto dall'organizzazione counter pick Phenom che sceglie Ne Calli ma Kungster si sta concentrando molto arma doppio taglio il counter pick perché si Cammy deve adattarsi al nuovo personaggio ma anche lui deve trovare la giusta strategia per gestire Cammy che non l'ha ancora affrontato forse con Ne Calli Kungster rimane concentrato continua a riflettere ogni secondo penso che stia analizzando ogni singola situazione ha avuto un bel po' di match per capire l'avversario quindi nessuno meglio di lui sa se è giusto o no cambiare personaggio conosce molto bene i tool sia di Bison che di Ne Calli quindi sa come rispondere a Cammy tuttavia non è l'unico in grado di adattarsi e ha deciso counter pick round 1 iniziamo match decisivo soli due round per decidere l'esito dell'incontro vediamo vediamo Venom che passa dal personaggio molto aggressivo a un altro personaggio molto aggressivo anche egli Ne Calli si molto gettonati i personaggi rushdown in questo gioco in quanto essere offensivi premia molto e il danno è molto alto quindi una volta che si entra infatti vediamo subito Ne Calli che un paio di pestoni già si fanno sentire sulla vita di Cammy però Cammy non ci sta e riporta verso l'angolo le Calli che risponde attivando il suo bit trigger sin dall'inizio del match che ricordiamo è infinito e rende tutte le sue mosse speciali molto più safe ed efficaci quindi bisogna essere molto prudenti in quanto ora Ne Calli può scimmiare diciamo molte più mosse infatti si porta a casa del primo round match point match point per Phenom giocatore veramente incredibile deve continuare a puntare sull'effetto sorpresa in quanto Kongster sembra non avere ancora una risposta per questo Ne Calli insiste con la sua offensiva vediamo se invece c'era incredibile il danno di Ne Calli è vero con pochissimi attacchi ha portato Cammy a pochissima vita Latina all'angolo ha pochissimo tempo per rispondere e capire come uscire da questa pressione e il pixel di vita che sparisce congratulazioni a due per Phenom Phenom con questo counter pick ottima scelta coraggiosissima da parte di Phenom che ha pagato ha fatto bene a farlo con l'ultimo match sorprendendo l'avversario Kungster giunge al loser bracket e aspetterà i suoi prossimi avversari quindi con l'ultimo match